La guerra divide i popoli, lo sport li unisce. Questo è il motto delle Alpiniadi, penne nere atletiche, inaugurate ieri al Centro Giovanile con l'accensione del Tripode, da parte del fondatore del gruppo sportivo alpino Francesco Moro. In saluto al Tricolore, la commemorazione dei caduti e la Santa Messa a San Francesco hanno aperto ufficialmente la manifestazione, che vede impegnati più di 1600 atleti e 500 volontari in arrivo da tutta Italia. Oggi a Sant'Eusebio e D'Enego le prime gare individuali con la corsa in montagna e il duotron. Domani a Possagno, competizione a squadra con la marcia di regolarità in montagna a pattuglie. A cornice delle competizioni sportive sono in agenda una rassegna di cori alpini, uno spettacolo teatrale e l'immancabile visita al Sacrario di Cimagrappa. Le Olimpiadi delle penne nere si chiuderanno domenica con la corsa in montagna a staffetta di braganze, prima della cerimonia di chiusura e le premiazioni dei vincitori. Grazie.